Sono molto contenta di essere qui perché è il terzo anno di fila e è un meeting che ogni anno viene organizzato sempre meglio, quindi l'atmosfera è veramente bella e spero che possa esserci l'opportunità di trasformare anche un meeting del genere in vasca lunga perché la campagna ha bisogno di queste manifestazioni di spessore. La forma in acqua diciamo che non mi aspettavo di riuscire a notare così bene più che altro perché sono sotto carico in vista dei prossimi campionati italiani assoluti per le qualifiche di Glasgow, quindi sono molto soddisfatta del lavoro che sto svolgendo.